Oggi si è parlato di vari aspetti riguardanti le community, si è parlato anche del rischio di scadere molto spesso in una comunicazione di tipo non umano. La Chiesa come risponde a tutto questo che appunto è il veicolo principale della comunicazione umana e interpersonale attraverso l'utilizzo del web? Allora, la Chiesa risponde col suo stile, che è lo stile di guardare all'uomo, non al mezzo. Usare il mezzo per aiutare l'uomo, è quello che io infatti dicevo nella mia relazione, di avere questo stile. E' importante entrare in tutte le possibilità di comunicazione che oggi ci offre il web con lo stile proprio, questo per aiutare l'uomo. Quindi la Chiesa sta andando avanti in questo, andando incontro ai mezzi che utilizza l'uomo, i mezzi di comunicazione? Sta andando avanti con molta circoscrizione, con molta lentezza, però sta entrando dentro, ci sono anche dei documenti del Pontificio Consiglio di Comunicazioni Sociali molto belli, invito a leggerli, poco conosciuti. Ma la Chiesa sta entrando in questo settore, sì.